Dopo un lungo viaggio di lavoro, non vedo l'ora di tornare a casa. Nulla può battere la comodità di uno spazio progettato proprio per me. Per il bordo piscina ho scelto design e funzionalità. Posso uscire in giardino per lavorare o per un momento di relax in compagnia. Lo stile che amo è in ogni dettaglio, anche in giardino. Per l'happy hour non manca niente. Un divano comodo, la luce del tramonto e la giusta compagnia. Le piccole abitudini creano i momenti migliori, quelli da ricordare. Il divano delle grandi maratone tv, quel vaso che hai rischiato di far cadere mille volte giocando. Non contano le mode momentanee, ma lo stile che vuoi creare. Ci sono atmosfere che creano emozioni impagabili. Bizzotto. Momenti da progettare pensando al futuro.